come misurare la febbre con il termometro in vetro il termometro è fatto da una parte che esce che noi dobbiamo mettere sotto al braccio è fatto da un liquido blu che si sposta e da tanti numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41 42 prima di misurare la febbre devo controllare dov'è il liquido il liquido deve essere piccolo all'inizio se il liquido non è qua ma si trova più avanti devo prendere il termometro muoverlo forte e abbassare il liquido quando il liquido blu si trova qua posso iniziare a misurare la febbre prima cosa libero un braccio destro o sinistro uguale e metto la punta sotto al braccio per 5 minuti durante questi 5 minuti non mi muovo rimango ferma con il braccio poi posso toglierlo e devo vedere dove è andata la linea blu se la linea blu si trova prima del 37 non ho la febbre se la linea blu si trova dopo il 37 ho la febbre quando ho finito di leggere devo prendere il termometro e abbassare ancora la linea blu fino all'inizio e abbassare ancora la linea blu e abbassare ancora la linea blu finito di leggere